Il libro Amaldi spiega il corpo nero in modo molto sintetico. Dà subito la definizione di corpo nero, un oggetto capace di assorbire completamente tutte le onde elettromagnetiche di qualunque lunghezza d'onda. Alla fine dell'Ottocento i fisici si resero conto di non essere in grado di spiegare le proprietà del corpo nero. Questo portò alla costruzione della fisica quantistica. Poi spiega che in laboratorio i corpi neri si studiano attraverso le cavità isoterme, oggetti cavi provvisti di un piccolo foro mantenute a una temperatura uniforme e costante. Le pareti interne di questa specie di forno, quindi una cavità isoterma in pratica è un forno, le pareti interne emettono radiazioni elettromagnetiche e le assorbono. E lo spettro di tali radiazioni, cioè la loro distribuzione in frequenze, dipende soltanto dalla temperatura, cioè quanta energia si trova dentro la cavità isoterma suddivisa nelle varie frequenze. Il libro spiega che sopra ai 1000 Kelvin le onde elettromagnetiche emesse da un corpo nero vanno a finire nel visibile. Questo non è propriamente vero perché se guardiamo a 1000 Kelvin nel visibile l'emissione del corpo nero è praticamente nulla, essendo invece tutta concentrata nell'ifrarosso. Comunque, man mano che la temperatura sale, il corpo nero assume colori più chiari fino a apparire quasi bianco. Poi il libro mostra le curve tracciate nella figura ottenute per via sperimentale, che sono queste le curve, ne è tracciata una sola a 2100 Kelvin. Alla fine del XIX secolo, quindi del 1800, questa proprietà, queste curve degli spettri, curve sperimentali misero in crisi i fisici. Qui Amaldi fornisce la previsione classica di Riley e Jeans e la catastrofe ultravioletta, che si otteneva applicando le equazioni di Maxwell e la termodinamica allo studio dell'emissione dell'assorbimento delle radiazioni elettromagnetiche da parte delle pareti del corpo nero. L'area sottesa dalla curva avrebbe infatti un valore infinito, se fosse vera, se fosse corretta, la previsione classica, quindi un irradiamento totale infinito, che non ha senso in fisica. Questo grafico rappresenta la radianza del corpo nero, il libro la chiama distribuzione spettrale delle radiazioni elettromagnetiche emesse da un corpo nero. Il fatto che l'area sotto la curva sia infinita è una evidente violazione del principio di conservazione dell'energia e fu definito catastrofe ultravioletta. Nel 1900 Max Planck riuscì a spiegare le curve sperimentali, assumendo che gli atomi delle pareti interne della cavità non scambiassero più energia in modo continuo con le radiazioni elettromagnetiche. In fisica classica lo scambio di energia era continuo, cioè nel senso che poteva avvenire senza pacchetti di energia. Invece Planck introdusse un'ipotesi nuova che gli scambi energetici tra gli atomi della cavità e la radiazione elettromagnetica avvenissero attraverso lo scambio di pacchetti di energia che non fossero riducibili a zero, quindi come se fossero delle monete in pratica. Come oggi se vogliamo scambiarci denaro non possiamo scendere sotto un centesimo. Un centesimo è il quanto di scambio di denaro oggi. Passiamo alla vecchia edizione del libro, perché la nuova edizione non me la visualizza correttamente. Mi fa bianche una metà delle pagine. Qua vediamo rappresentata una cavità isoterma con una frazione delle radiazioni elettromagnetiche all'interno che escono dal fuori e vengono analizzate. Questa è la radianza del corpo nero in funzione della lunghezza d'onda. Ci sono molte curve a varie temperature e si vede che il massimo si sposta verso le lunghezze d'onde minori al crescere della temperatura. Il libro Amaldi riporta la legge di spostamento di Wien, detta anche la legge del massimo di Wien, e svolge un esempio per calcolare dove si trova il picco a quale lunghezza d'onda, il picco di Wien per un corpo nero a questa temperatura e scopre che sono 3,5 micron. Siccome la temperatura è sotto a 1000 Kelvin ve ne siamo sicuramente nell'ifrarosso. E qui siamo di nuovo alla soluzione di Planck che ipotizza uno scambio di energia a pacchetti tra gli atomi della cavità e la radiazione elettromagnetica all'interno. I pacchetti di energia chiamati quanti. Secondo Planck l'energia scambiata dagli atomi delle pareti con la radiazione elettromagnetica è un multiplo intero di HF. F è la frequenza sia di oscillazione degli atomi che la frequenza delle onde elettromagnetiche. N è un numero intero positivo e H è la costante di Planck, questo è il valore attuale. Con l'ipotesi di Planck si riesce a ottenere la curva corretta per lo spettro di corpo nero che è questa, in perfetto accordo con i dati sperimentali. Questa è la formula della radianza in funzione della lunghezza d'onda. Lo stesso Planck, malgrado il successo del suo procedimento, considerò questi quanti di scambio di energia un semplice artificio matematico. Fu Einstein successivamente che invece diede un senso fisico più forte a questa quantizzazione.